Le tecnologie sociali e le tecnologie possono aiutare le persone durante una situazione di disastro a rimanere informati, a rimanere connessi con le persone che le amano e a ridurre le barriere. Durante i disastri, i bambini sono uno dei principali usati della tecnologia sociali e della tecnologia, e che possono giocare un grande ruolo in creare comunità più resiliente. In LINX, stiamo sviluppando un toolkit educativo, che è una plateforma di sito, con materiale educativo, basato su esperienze, per engagerare i bambini nella azione di prevenzione e le azioni di preparazione. Le tecnologie che si concentrano sono come ridurre le vulnerabilità nella sua propria comunità, come essere preparati per altri eventi rischi, come riuscire l'awareness tra i bambini, e come comunicare durante il tempo di emergenza. Grazie a tutti!